Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi andremo ad Avigliana a provare la seconda pasticceria d'Italia la pasticceria Dalmasso premiata da Gambero Rosso con 3 torte e 94 punti seconda soltanto alla pasticceria Veneto a Brescia di Eginio Massari Saluto Antonio Ciao Ciao Alla prossima, devi sapere La nostra solidità fortuna La specialità della casa un po' cos'è? Diciamo che è proprio una peccata ma non c'è Non c'è la specialità Cioè ci sono anche queste meriti che comunque sono speciali A sto punto mi metti dei tutti Sì, faccio io una Sì dai Tanto ce n'è spazio Gabri ti posso dire una cosa E non senza che ti arrabbi Ho dimenticato portafoglio in macchina Ok abbiamo appena ordinato Abbiamo preso un assaggio di tutto Più o meno uno per tipo Sono molto belli Molto colorati Non c'era purtroppo molto ma vabbè Ora vado a provare quello che mi ispira un po' di più Che è un po' più particolare Questo qui dovrebbe essere una meringa Si chiama yellow Molto buono si percepisce anche il limone Dalla parte di sopra E se iniziamo così promette veramente veramente bene Invece Gabri tu cosa prendi? Ma io prenderei il mio gusto preferito Il pistacchio E poi le sarana Questo qua Per l'alpistacchio Che ne dici? Buonissimo Grazie Non è che forse andiamo in vacanza Deborah non vuole essere ripresa Ma visto che c'è solo questo Come si chiama questo? Merida Assaggia Buonissimo Buono? Approvato E ora Io voglio provare questo Vai Pink Signor Pink Pinkman Jesse Pinkman Yellow Vero buonissimo Pink Io non ho parole per descriverlo Io ora invece voglio provare Questo qui arancione Cos'è? Arancia credo Arancia L'arancia è proprio Troppo buona A chi tocca? Biond Allora ora voglio provare Quelli con la frutta Perché io solitamente prendo I pasticcini alla frutta Vediamo questi Se hanno qualcosa di speciale Un po' meno uovo degli altri Un po' meno uovo degli altri Però confronto Agli altri pasticcini alla frutta Si sente che la frolla È proprio più fresca È artigianale È molto più buona E anche la frutta sopra Rende proprio di più Continuiamo? Guarda le tocca a Deborah Allora C'è ancora una vasta Scelta ragazzi Io C'ho il cannolo Che mi sta chiamando Ma il cannolo Infatti tra poco Sarà mio Tra poco finisce Non lo vedete più Nell'inquadratura Ma Ed era un volevo Lo ielo Caffè Caffè hai preso te Tu hai preso il caffè Vai di caffè dai Caffè Vai a cuolare il caffè Allora proviamo Il caffè Vado Vada Buonissimo E c'è tutta una cosa Una cremina Tutta il caffè Buonissimo Pieno di crema Al caffè Non pensavo fosse al caffè Dai Io Attacca il cannolo Tocco il cannolo Che era qui Che ci guardava Vediamo se è all'altezza Dei cannoli siciliani Andiamo un po' Ma La ricotta è buonissima Sentiamo proprio Che è freschissima Punghetto Lo uccidiamo Gennaro Ma questo punghetto Veramente sa di Non lo so Di misterioso Così Super Mario Bros Ho paura Mangiarlo E puoi uscire da qua E' buono Perché è buono Ma questo è Quello che fino adesso Mi è ispirato di meno Però Tutto sommato non male Io voglio provare Questi colorati ragazzi Questi qua tutti fluo Vai Gabriele Attacca con la bignola La bignola verde Penso ci sia Limone Crema in limba Dentro Buona Bene Deborah a lei Ma si Provi questo Perché è più particolare Dovrebbe essere Dovrebbe essere Una bignola Con dentro La nocciola Come quella di prima Anche praticamente Infatti Molto simile Lo stesso Lo stesso Pazziccino Di quello Caffè di prima Però La nocciola Dentro È molto Buona C'è veramente buona Quello da me piace La nocciola Che è Approvato Per questo Sì Intanto avessimo Un bel commercio Un po' di uno Stato Che non si sa mai Non possiamo stare Con i bicchieri Cuocer Di pieno Pieno Questa sembrava fatta Da un artista Di Nile Art Vabbè Allora lo assaggio Dai Cioccolato Ti ronda la bocca Con questa Esplosione Di cioccolato Esatto Veramente Complimenti Bravissimi Allora Tata My Cupcake Cioccolato Con un cioccolato Buonissimo Buono Su su Sotto a chi tocca Andiamo con questa Che non si è filata Nessuno Io non sono un amante Della panna Però questa qua È proprio delicata Non si sente Quasi nemmeno È Buonissima Adesso tocca Questo dolcino qua Nell'angolo La bai bai Madonna mia È forte Allora Le avresti un altro Iello Che bello C'è dentro La fragola La panna Sa fare di traste C'è La fructezza Della maringa Con la freschezza Della fragola E la crema È una cosa Veramente pulita È buonissima Crema Buonissimo Questo cioccolato Con sopra Non so Una marmellata Qualcosa Del genere Un gusto imprevisto È alcolico Sopra C'era questa Non so Come descriverla Tipo come Fosse Una Caramella Mi aspettavo Del cioccolato Però Buono Sì Questo ero curioso Di provarlo Anche io È buonissimo Anche il chicco Sopra Dà un po' Di croccantezza Veramente Veramente Buono Beviamo Le vittime Sono abbastanza Penso che non arriveranno Da qui a dieci minuti Qua chiedo Un altro giro Di moscato Accontentiamoli Ma com'è che si versa Così Ma sì Tanto Deborah Beve Sì Deborah Fa parte di un gruppo Alcolistica di Anonimi Ma non è vero È vero È vero Io sono a stella Sì sì Sono totalmente a stella Sì E già te recupero Tre quattro volte E per ultimo Vado a provare Il tanto decantato Gianduiotto Che vado a leggere Viene prodotto Artigianalmente Ha come materie prime Favi di cacao di criollo Di origine venezuelana Nocciole piemonte IGP Tonda gentile tribolata Zucchero di canna bianca e vaniglia Barbone in bacche E per noi piemontesi È un must Eh sì Devo essere sincero Forse è il gianduiotto più buono Che abbiamo mai mangiato In Italia E il biondo paga È stato così Un applauso al giro di canna bianca E niente ragazzi Un'esperienza bellissima Siamo stati un po' sfortunati Perché non c'era tanta varietà Però quando sono andato a pagare La signora mi ha detto Che seguono molto la stagionalità E quindi Se poi si va In altri periodi Si trova qualcosa di diverso Il personale è stato molto cordiale La signora si è anche prodigata A trovarci la bottiglia A mettercela in fresco Qualità top Non per niente La seconda pasticceria d'Italia Il prezzo I pasticcini venivano sui 45 euro al chilo Circa la metà di quello Che si va a spendere Da Iginio Massari Ma non ha nulla da inviare Quindi niente E' un'esperienza positiva Sicuramente da rifare E ora per concludere la giornata Andremo a fare un giro Per i famosi laghi di Avigliana E' un'esperienza positiva grazie a tutti Grazie a tutti.